vediamo se entriamo in diretta io non vedo ancora no eccoci ci siamo ed eccoci buonasera buonasera a tutti buonasera ben ritrovati di nuovo con noi e con i messaggi dei nostri amati angeli siamo felicissime di essere qui con voi di nuovo in questa giornata speciale giornata di luce giornata della festa delle palme che introduce ufficialmente quella che sarà la settimana santa prima di Pasqua quindi un saluto a tutti voi con tanto amore pieni di luce passo la parola alla mia amica Sabrina buonasera a tutti quanti come sempre è un grande onore essere qui con voi e con i nostri angeli quindi chiediamo il loro aiuto facciamo apriamo il cerchio arcangelico quindi ci centriamo un attimo al cuore con la mano al cuore e respiriamo profondamente chiamiamo i nostri angeli custodi uno alla destra e uno alla nostra sinistra assieme alle nostre guide che aprono il cerchio arcangelico e che arrivino a noi tutte le energie benevole le frequenze colorate dei nostri amatissimi arcangeli grazie 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 bene allora per cominciare passo la parola a Stefania che comincerà a leggere i messaggi canalizzati grazie Sabrina buonasera buonasera a tutti e grazie di essere qui ad ascoltare questi meravigliosi messaggi che ci portano tanta energia di luce e di guarigione a tutti allora io parto con il primo messaggio che ho canalizzato questa sera e che è per la nostra amica Donatella Benasciutti che spero sia qui in diretta ad ascoltarci cara Donatella creatura amata nel mondo come un grande albero con solide radici ed un grande tronco folti rami intrisi di verdi foglie rami che si protendono verso la luce per donare cotanta ricchezza e bellezza agli altri hai scelto una missione importante per questa esperienza terrena in apertura e dono dentro di te senti la fatica di essere albero che accoglie, abbracci e nutre perché si sa simbolicamente le anime che incontri entrano in risonanza con te che sei in grado di innalzare la loro energia vitale le loro vibrazioni così da diventare strumento di cura così assorbi anche l'anidride carbonica ed in certi momenti ti senti come una foglia sbattuta dalla tempesta e caduta dal peso di una forte pioggia torrenziale cara Donatella siamo qui a rassicurarti a dirti di non perdere la forza per rimanere foglia verde sul ramo e continuare a nutrirti delle ricche sostanze del tronco ti siamo accanto in questo viaggio terreno e ti sosteniamo in questo tuo cammino nel rimanere foglia verde e rigogliosa non avere paura di mostrare le tue fragilità i tuoi momenti no le tue debolezze sentiti libera di esprimerti così come sei affonda le tue radici su madre terra per attingere nutrimento raccogliti nel silenzio e nella meraviglia della tua anima che tutto sa ed attende impaziente di catturare tutte le tue attenzioni per donarti preziosi consigli ed allora fermati e con calma e fiducia lascia passare l'inverno a breve il caldo sole primaverile scioglierà la neve che ricopriva la terra per far nascere nuovi germogli fiori dai mille colori non sei solo materia amata creatura sei energia vitale e non puoi donare amore quando la carica della batteria comincia a scarseggiare ricaricati con amore quando ti senti foglia al vento alza lo sguardo e lasciati trasportare dalla brezza in cui viaggia l'energia della sfera celeste che ti abbraccia e ti sostiene solo così puoi essere ponte con gli altri come un cavo che rimette in moto un'auto ama te stessa ricordando sempre che sei amata e protetta protetta dall'alto ed amata anche da tante anime che incontri ogni giorno e che aiuti anche solo con un sorriso o di una parola gentile sentiti leggera orgogliosa di ciò che sei tieni saldi dentro di te i valori importanti che ti appartengono per seminare consapevolezza e direzione verso un mondo migliore l'Arcangelo Raffaele e gli angeli della guarigione ecco è un bellissimo messaggio Stefania ti posso richiedere il nome della persona per cui l'ho eletto? Donatella Benasciutti ok io non vedo ancora il nome di Donatella mentre aspettiamo se Donatella si fa sentire volevo rispondere a Michela Ruggero perché in effetti ci siamo un po' dimenticate è un po' colpa mia di spiegare all'inizio come avvengono le nostre serate cara Michela noi abbiamo intanto saluto Giorgio ciao Giorgio abbiamo delle prenotazioni per delle canalizzazioni angeliche ma durante la diretta ci sarà la nostra Francesca che è già all'opera per scegliere dei nominativi random tra i presenti per donare anche delle canalizzazioni in diretta ok e niente adesso ascolta carissima anche perché le canalizzazioni alla fine servono a tutti anche se sono per dei nominativi in particolare gli angeli dicono sempre messaggi che servono a tutti noi ok e spero di essere stata chiara e ti saluto nel frattempo Donatella non c'è Stefi quindi vai avanti allora io vi interrompo per per dire i primi due nomi delle persone alle quali canalizzerò i messaggi in diretta che sono Michela Ruggero e Michela Carbotti quindi lascio la parola alle ragazze e a tra poco ok grazie io adesso leggo il messaggio che ho canalizzato per Alessandra Serra amata 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 creatura già da piccola hai manifestato il tuo essere diverso fuori dagli schemi comuni perché la tua anima aveva grandi progetti per te progetti che hai dimenticato man mano che crescevi lasciandoti trascinare dagli eventi trascurando l'amore per te stessa ora lo stai ritrovando l'amore è qui adesso accoglilo per realizzare la tua vita e donarla agli altri non importa in che forma non importa scopri le vibrazioni della tua anima e tutta l'energia che possiede per esprimere al meglio i tuoi talenti ha solo bisogno di essere accolta ed ascoltata riconosciuta per quella meraviglia che è a volte sfuggi il tuo sguardo davanti allo specchio ti invitiamo a soffermarti con attenzione e con occhi benevoli davanti ad esso e di guardarti con gli occhi di chi ti ama e sa quanto sei preziosa su questa terra quanto sai colorare le giornate di chi ti sta accanto quanto la tua solarità ed il tuo splendore lasciano un segno nelle anime che ti circondano rifugiati nel tuo tempio luogo in cui con sacralità puoi ascoltare il divino che c'è in te dove ti senti protetta e custodita per comprendere al meglio la tua vera essenza con l'amore ed il nostro sostegno ti invitiamo a proseguire questo tuo cammino con leggerezza a creare un cerchio di luce in cui far entrare mano nella mano chi fa parte della tua vita e quanto sei preziosa ai loro occhi non permettere che nulla offuschi il tuo percorso ricco di sorprese ed amore e quando dubiti di ciò che sei o che fai fermati siediti comoda chiudi gli occhi e senti il nostro abbraccio a rassicurarti del nostro amore e del nostro sostegno immaginati davanti al fuoco di un caminetto con la legna che arde e che crea sfumature diverse di colore e di luce lasciati ispirare da questa immagine per essere come quel fuoco che scalda ed ispira prosegui senza timore con la certezza che la nostra protezione accompagna ogni tuo passo i tuoi angeli custodi ecco non so se Alessandra Serra è in diretta mi sembrava di averla vista prima se ha un feedback da darmi o qualche domanda da fare sì Alessandra l'avevo vista aveva salutato quindi credo abbia ascoltato questo meraviglioso messaggio per lei ecco conferma che c'è Alessandra sei voglia di dirci se ti risuona qualche impressione aspettiamo un attimo certo vediamo se ci scrive al momento no no dice sì ci sono o no va bene allora io passo la parola a Federica grazie buonasera allora io il primo messaggio che ho canalizzato è per Carmela Calascibetta che mi sembra però di non averla ancora vista il messaggio è questo cara Carmela cara anima amata sei giunta fin qui grazie alla tua capabilità ed eleganza giunge a noi chiedendo un messaggio per questo periodo intenso intenso di eventi e lavori le cose andranno tutto sommato bene ti guardiamo ogni tanto mentre sbuffi o ti agiti ma sappi che i tuoi sacrifici saranno ricompensati è da tanti anni che hai questo progetto e le cose diventeranno come tu le vuoi ogni tanto ti consigliamo di fermarti e goderti gli obiettivi raggiunti le giornate scorrono veloci e i pensieri pure impara a fare un passo indietro osservare le situazioni per quello che sono e non per quello che proietti tu in esse alcune persone vorrebbero dirti cose e cosa fare ma tu sai cosa fare quindi evita situazioni spiacevoli a livello relazionale trova un modo per congedarti in modo semplice educato e gentile perché gli scambi intensi di opinioni non hanno senza molto cara Carmela ti amiamo e ti chiediamo di chiamarci con l'intento siamo nei profumi delle tue rose e con le ali degli elementali ti amamo angeli del perdono Carmela però non la vedo non so aspettiamo qualche minuto sì c'è c'è Federica la civetta sì eccola qua ok Carmela sei voglia di scrivere un feedback noi siamo contenti nel frattempo Stefania ci aveva scritto oddio non mi ricordo il nome la ragazza Alessandra sì Alessandra ho visto hai visto che riascolterà il messaggio va bene andiamo pure avanti allora io vado avanti e ho il messaggio per clizia aceto cara anima belluccicosa e sprizzante di entusiasmo per la vita la tua dolcezza e delicatezza ci riempiono di orgoglio sei un'anima giovane che sperimenta ogni cosa con metodo e integrità profondità perché vedi ogni sfumatura a volte ti senti un po' abbattuta e ti chiedi perché le persone non ti capiscono ti senti incompresa ma vedi dolcissima farfalla non importa cosa pensano gli altri conta quello che tu sei quello che irradi nell'aria e credimi è veramente tanta bellezza di una frequenza tale che muta le percezioni degli altri sono Sandafol e come sai sono l'arcangelo della sincronicità che ho creazione e ti sussurra all'orecchio continuo a creare continuo a progettare perché ti sostengo e tu hai capito come funzionano le cose abbi fiducia e rimani in contatto con le vibrazioni del cuore ti amo Sandafol io non so se Ecclizia c'è aceto sì c'è e se vuole dire qualcosa se si risente quello che ho nel messaggio nell'arcangelo Sandafol c'è Carmela che dice che si è emozionata grazie Carmela bello no l'effetto che ci fanno gli angeli sì ci emozionano niente non riesco più a togliere scusate sto facendo ecco Clizia dice che risuona davvero eccola qua buonasera Clizia sono puntenta continua così sei sulla strada giusta passo una linea a Maria grazie oh tocca già a me eccomi qua a Sabrina no a Sabrina a Sabrina infatti sì eccomi qua intanto grazie ricordo che Francesca sta canalizzando per due Michela vai scusa Sabrina niente figurati allora io ho il messaggio canalizzato per Monica Damiani che avevo già visto che è iscritta come mica ha un altro nome allora da qualche tempo l'arcangelo Gabriele ha deciso che oltre a canalizzare a scrivere è lui che guida la mia mano io sono di solito scrivo con la mano destra con la sinistra devo disegnare lui mi mostra un'immagine e quindi questo è quello spero che si veda molto bene comunque adesso lo spiego questo è il disegno che mi ha fatto fare per Monica allora in pratica io ho visto un bellissimo diamante che inizialmente era tutto chiaro però poi pian piano si è colorato di tutti i colori dell'arcobaleno perché la caratteristica del una delle caratteristiche del diamante quando brilla è che ha queste luci iridescenti che ricordano l'arcobaleno quindi una luce bianca lo attraversa e poi diventa una luce arcobaleno quindi Monica adesso leggo il messaggio canalizzato per te una pietra preziosa come il diamante è lavorata per lungo tempo nelle più profonde viscere della terra solo il calore e la pressione sono in grado istante dopo istante di donarle purezza e valore esso si presenta grezzo alla luce dei minatori ma qualora affidato ad un abile artigiano mostra le mille sfaccettature che attraversate da un fascio di luce bianca esplode in una rifrazione iridescente cara Monica abbiamo assistito alla lunga e faticosa gestazione che hai attraversato nelle viscere della tua esistenza sei stata sottoposta al calore che ti ha fatto pensare in certi momenti di soffocare la pressione delle incombenze quotidiane ti hanno spesso appesantita quasi schiacciata rallentando il tuo avanzare ascoltavamo le tue preghiere sospirate dal profondo del cuore a volte pensavi che non sarebbero riusciti a perforare la crosta che gli eventi inspessivano di giorno in giorno erano sospirate perché l'umiltà del tuo animo temeva di importunare l'orecchio divino quasi tu non meritassi la sua attenzione cara dolce e delicata Monica ricorda quando le preghiere partono dal profondo del cuore hanno una via preferenziale per il cielo arrivano come un missile lanciato nello spazio siamo qui oggi a dirti che nulla è andato perduto ogni tua preghiera anche se solo sospirata è stata ascoltata le viscere della terra ti hanno tenuta protetta in modo che la chimica del cammino terrestre plasmasse la materia rendendola dura e indistruttibile ora sei pronta ancora grezza ma sei stata vista chiamaci e saremo la trivella che forerà la roccia nella quale sei imprigionata le nostre ali ti porteranno in alto dove il cesellatore smusserà tutti gli spigoli storti e grazie alla tua natura divina diverrai una prietera preziosa agli occhi del mondo sì Monica ora il diamante che dentro di te è pronto a riflettere la luce bianca per trasformarla in arcobaleno esso diverrà faro nella notte oasi nel deserto e porto sicuro per il navigante che teme di aver perduto la rotta la trasparenza del tuo essere forgiata nel tempo come un diamante sarà di esempio a quanti faticosamente aspettano ancora di venire alla luce ti ascolteranno ti guarderanno e capiranno che a volte è sufficiente guardare in alto e chiamare i propri angeli ricordando che in cielo ogni anima è cara al divino ti amiamo gli arcangeli Ariel e Zafkel assieme ai tuoi angeli custodi torno a mostrare il disegno questo è il diamante che è Monica quindi piena di colori ma dura perché il diamante è una delle pietre preziose più dure che esista quindi se a Monica risuona l'avevo vista prima in si si ha scritto che c'è tra l'altro bellissimo quel disegno Sabrina pensate che non sono neanche capace di disegnare quindi veramente gli arcangeli con me stanno facendo miracoli molto bello non vedo commenti da parte di Monica giusto? si Monica Monica Damiani però è Mica esatto Mica si guarda che c'è commenti per il disegno infatti vero vero concordo grazie grazie per il disegno tra l'altro hai detto che hai disegnato con la mano sinistra con la mano sinistra se io scrivo con la destra e quindi l'arcangelo Gabriele mi chiede di disegnare con la sinistra in modo che io usi entrambe le mani quindi io prima faccio il disegno con la sinistra poi parto con lo scrivere a mano il messaggio che mi viene canalizzato incredibile incredibile ti proporrei di continuare perché non vedo messaggi magari ok allora leggo leggo l'altro messaggio che è per Maria Paola Sabrina posso romperti certo io volevo leggere i miei due messaggi che ho canalizzato va bene per le due ragazze che avevo scelto ti dispiace così poi ne scelgo no 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 tranquilla ok faccio solo vedere il commento lo sto vedendo sì quello di Mika Giuliana grazie per questo meraviglioso messaggio mi rivolgo spesso agli angeli bravissima ma fatico ancora a vedere aspetta no ah questo è un altro no no a vedere e riconoscere i miei colori ah ecco ne hai davvero tanti sai tu pensa all'arcobaleno e tutti questi colori sono quelli che racchiudi dentro il tuo cuore devi solo essere capace di come si dice di scomporre la luce bianca che è l'insieme di tutti i colori da un punto di vista cromatico e vedrai che i colori che hai dentro sono veramente vividi luminosi sono veramente ed è proprio quello a un certo punto l'arcangelo Gabriele mi ha proprio fatto prendere tutti i pastelli e io ho dovuto proprio usare tutti se ne avessi avuti ancora sicuramente ne avrei messi ne avrei messi ancora su questo disegno quindi i colori sono davvero davvero tanti bene mi fa piacere questo messaggio vai Franci allora il primo messaggio che ho canalizzato è per Michela Ruggero che era qui in diretta che ho scelto tra tra i commenti allora Michela il messaggio per te è questo anima cara sorella di luce pura stiamo con te in ogni momento della tua giornata fin dal sorgere del sole sei stella nascente sei luce che brilla niente può scalfire il tuo sorriso e la tua gioia di vivere la tua anima è pura sorella cara non lasciare che niente la offuschi brilla come una stella del firmamento dona pace e gioia a tutte le anime su questa terra la vita è gioia la vita è amore la vita è amore sorella cara dona e non stancarti anima benedetta ogni giorno insieme a noi tu dona insieme a noi i tuoi angeli custodi questo era il messaggio per Michela che ho letto se Michela vuole vuole darmi vuole darci un feedback così insomma il feedback è sempre ovviamente gradito altrimenti passo passo alla persona successiva non vedo io sto seguendo anche sul cellulare ovviamente la serata non la vedo in diretta per cui o meglio non vedo nessun nessun commento sì perché in diretta c'è si era palesata prima ma i commenti vedo che arrivano in ritardo probabilmente un attimo ci va tempo va bene allora io nel frattempo leggo l'altro messaggio così diamo il tempo a Michela Ruggero se vuole darci il suo feedback proseguo il messaggio per Michela Carbotti Michela il messaggio per te è questo dolce anima in cammino luce pura tu sei luce pura dal cuore grande grande è il tuo amore per noi esseri di luce insieme a te in questo cammino fin dalla tua comparsa su questa terra insieme a te lungo tutto l'intero percorso terreno amore noi siamo grandi benedizioni noi portiamo a chi ci aprirà il cuore amorevoli creature noi siamo siamo esseri di luce pura siamo esseri di amore incondizionato per voi esseri d'amore terreni anime care voi siete per noi ogni giorno insieme a voi nell'amore di chi ci ha creati il messaggio era da parte degli angeli custodi questo era il messaggio per Michela Carbotti ovviamente chiedo anche a Michela che vuole lasciarci un feedback lasciamo lasciamo magari scrivere io avrei scelto altre tre persone per le quali canalizzare i messaggi ora di cui loro nomi e chiedo cortesemente se se ci danno un messaggio della loro presenza a questa diretta prima ti faccio vedere la risposta di Michela Carbotti che dice no ho sbagliato pardon vanno su allora ho perso messaggio ma dice bellissimo grazie mi ci ritrovo quindi Michela bello grazie 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 infinite grazie infinite grazie Michela ecco allora io volevo chiedere a Kira Shift spero di leggerlo bene il nome poi Luciana Curzi e Cristina Piddu se sono con noi in diretta se sono in diretta io canalizzo per loro allora Cristina Piddu si c'è va bene tanto che controllo controlliamo gli altri due nominativi io lascio la parola di nuovo a Fabri sì a Sabrina e io intanto canalizzo il messaggio per Cristina e poi ci aggiorniamo tra poco va bene allora no a te a te Francesca allora il prossimo messaggio è per un'altra Monica Monica Castellaregna allora questo è il disegno che io ho fatto forse non si capisce molto bene ma sono dei piedi nudi su un bellissimo prato vario pinto ecco questo è il disegno per Monica Castellaregna allora comincio bene cara dolce Monica la primavera è alle porte la senti dentro di te i tuoi anni si dicono dell'estate della vita ma il tuo spirito bambino è sempre con te si scorge nella luce dei tuoi occhi nella cutezza del tuo intuito e nella generosità del tuo cuore l'inverno è stato lungo hai dovuto coprirti con molti strati per affrontare questa fredda stagione a volte hai camminato in mezzo ad una bufera di neve ed eri scalza il gelo che sentivi affondando i piedi penetrava fino al midollo del tuo essere raggelando il tuo sentire abbiamo sentito i tuoi pensieri a volte ti arrabbiavi era solo un momento la tristezza era tanta però ma continuavi ad avanzare e l'energia che raccudevi dentro di te ti permetteva di scaldarti e liberarti pian piano da ogni strato che ti copriva è ricerta che alla fine della strada la neve avrebbe lasciato il posto al tepore della primavera ti consolavi ti raccontavi che sarebbe andato tutto bene e procedevi a fatica ma senza fermarti mai cara dolce Monica ti abbiamo vista abbiamo ascoltato la preghiera nascosta in quelle rassicurazioni ora siamo qui per dirti che la primavera è arrivata la neve si scioglie sei ancora scalza ma i passi affondati nella neve si stanno dirigendo verso un prato illuminato e riscaldato dal sole abbandona gli strati che ti hanno protetta e riscaldato il terreno asciutto accoglierà i tuoi piedi accarezzandoli dolcemente chiamaci ancora e saremo le dita che li massaggeranno allontanando ogni tensione abbiamo sentito quando fiduciosa ci chiamavi in aiuto sapevi che eravamo accanto a te ma non osavi pensarlo davvero i dubbi della mente a volte ci hanno nascosto agli sguardi del tuo cuore adesso siamo noi che vogliamo rassicurarti che tutto andrà bene sei amata protetta e ti stiamo accompagnando lungo la radura dove potrai riprendere fiato siediti fermati e guardati attorno riempi i tuoi occhi dei colori della primavera annusa il profumo dei fiori gioca con le farfalle parla con il vento ritrova la piccola Monica che è rimasta ragomitolata e nascosta alla vista e riscaldatevi ora ai raggi di un nuovo sole la cui luce parte direttamente dal vostro cuore buona vita ti amiamo e siamo sempre con te i tuoi angeli custodi questo è il messaggio per Monica mostro di nuovo il disegno che ho fatto spero che si veda bene e niente se c'è un feedback eventualmente aspettiamo un attimo magari sì certo tra l'altro anche questo è un bel disegno molto significativo sì ho proprio visto questi piedi nudi in questo bellissimo prato pieno di fiori di farfalle bellissimo veramente bellissimo non vedo risposte andrei avanti cosa dite ecco allora c'è Monica che dice grazie di cuore eccola qua ho i brividi e un sorriso cerco risveglio sì spero di abbracciare la primavera ma la la mia primavera con gli angeli sempre con me bellissimo bene 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 fantastico molto molto grazie Monica allora se Francesca non ha altro da dire passo la parola a te Maria Grazia certo ok bene proseguo io e ho visto che c'è il mio messaggio è per Emanuela Provenzano quindi Emanuela questo messaggio è per te con tutto il cuore ecco cosa ti dicono gli angeli cara luce dell'universo eccoci a te con il cuore colmo d'amore in questo giorno di luce pura ti portiamo il nostro sostegno e il nostro calore e ti ricordiamo che per poter intervenire in tuo aiuto abbiamo sempre bisogno del vostro permesso figlia amata affronta a testa alta ogni intemperia e ogni prova ma non lasciare che questo ti indurisca sii fiera e determinata ma resta aperta all'amore per il prossimo tutto ciò che vivi non intacchi il tuo cuore dai colori arcobaleno mantieni la luce e la tua delicatezza immaginati ricoperta e avvolta dai colori dell'arcobaleno e respirali tutti in te essi ti nutriranno e guariranno all'istante il dolore che il mondo ti causa sei su questa terra per potenziare la tua luce ecco tesoro caro siamo qui a dirti di non lasciare che il cinismo e la durezza esterna raffreddino o oscurino questa tua luce continua a brillare per te per gli altri e alla fine sarà la tua luce a illuminare ogni angolo e ogni cuore e lì saprai chi sei e lì anche gli altri lo riconosceranno ma se tu ora lasci che le difficoltà costruiscono la corazza intorno quel tuo bel cuore dopo sarà più difficile tu sei sostenuta da tutti noi angeli della trasparenza proprio perché tu in noi possa trovare l'appoggio e l'energia per resistere tu sei luce tu sei amore resta con noi ricorda ogni mattina medita sull'arcobaleno di luce e se vuoi ogni sera immagina che la luce più pura ti avvolga in un guscio di protezione e chiama l'arcangelo Michele affinché protegga la tua anima e i tuoi viaggi notturni e ti aiuti a lasciare andare tutto quello che non serve più al tuo percorso vedrai che ti sentirai meglio sei amata cara e non sei mai sola parla con noi e ti sentirai sempre bene tutto l'amore e la luce del creato si riversino su di te e su tutti voi oggi adesso sempre con tutto l'amore nostro gli angeli della trasparenza ecco questo messaggio era per Emanuela Provenzano Emanuela se ci sei sì eccomi grazie se hai voglia di scrivere un feedback o di dirci qualcosa eccola qua Emanuela mi dice grazie davvero grazie di cuore per il messaggio meraviglioso è tutto verissimo grazie a te Maria grazie a tutti gli angeli che mi aiutano tutti i giorni è proprio così è proprio così sì certa Emanuela e se ti va prova a mettere in atto la protezione che ti hanno consigliato perché io ti ho proprio vista a volta da questo cono di luci arcobaleno bellissime penso che possano servirti a ricaricare un po' le pile con tutto il mio cuore buone cose a me si blocca se c'è qualcuno che dice che si bloccano le connessioni spero che gli altri ci seguano e ci vedano bene intanto saluto tutti tanti saluti saluti a tutti Emanuela brava provaci subito da stasera poi facci sapere se Francesca non è pronta io leggo il secondo messaggio io sarai pronta se vuoi allora lascio spazio senza dubbio a te vai grazie allora il messaggio che ho canalizzato è per Cristina Piddu che avevo visto poco fa di nuovo scrivere insomma ci sono sono qui per cui vado e leggo per Cristina anima cara anima gioiosa anima piena di vita di gioia di vivere sei per noi come un grande sole sempre pronto a riscaldare le anime su questa terra il tuo calore la forza del tuo sorriso siano manna per i cuori gelidi e desiderosi di amore la tua grazia ti sia sempre compagna ogni volta che qualche cuore arido di amore si aprirà a te in cerca di calore il calore sì proprio quello perché l'amore è il calore al cuore vai anima cara e riscalda i cuori vai anima cara e guida i loro cammini nell'amore questo messaggio Cristina per te è da parte dei tuoi angeli custodi io chiedo sempre a Cristina se può lasciarci un feedback e nel frattempo che Cristina scrive io lascio di nuovo la parola a te Maria Grazia e se ci sono altre persone che desiderano una canalizzazione da me questa sera in diretta ricordo il nome il cognome e la data di nascita ricordo inoltre che devono essere persone che non si sono prenotate tramite email o insomma tramite comunicazioni con Antonella Virgì e ovviamente questa sera per loro per le persone prenotate il messaggio viene letto dalle ragazze che vedete insieme a me lascio una parola a te Maria Grazia grazie cara guarda che ci sono molte richieste vedo scorrere nomi e date buon lavoro grazie io intanto proseguo e il prossimo messaggio è per Denise Paruzzi o Denise sì Denise a te veniamo per portarti un messaggio d'amore che possa rallegrare il tuo cuore meraviglia meraviglia nei tuoi occhi e nel tuo cuore la purezza calda che contagia avvolge e rassicura chi le sta intorno grazie anima pura grazie per tutto l'amore che semini nel mondo grazie per la tua fiducia grazie per la tua umiltà grazie a noi tanto cara è la tua anima a noi che ti camminiamo accanto da sempre felici di poter accompagnare il tuo viaggio di crescita a noi che vediamo in ogni angolo di quel dolcissimo cuore continua anima bella a gestire ogni giorno sotto la luce del cuore più puro continua ad amare e si irradiosa e consapevole di quanto è prezioso il tuo cammino in mezzo alle anime che ti circondano e che percepiscono la tua bellezza interiore il tuo sorriso contagioso continui a spandere la bellezza incurante dei piccoli intoppi che tu accetti con naturalezza disciplina e fiducia ogni cosa che hai raggiunto ogni onore è meritato tesoro caro nulla viene regalato dall'universo per cui sii semplicemente grata ma consapevole che la luce che ti accompagna non è fortuna ma frutto di tantissime lezioni superate e apprese negli inevitabili momenti in cui ti senti tesa o insoddisfatta focalizzati sull'aiuto che puoi dare agli altri giovane anima luminosa e chiediti come posso rendere oggi il mondo un posto migliore la legge di attrazione e noi pensere è ogni sei al sicuro e protetta non temere di essere te stessa e usa i tuoi doni e le tue capacità per attrarre i risultati che desideri siamo felici di lavorare con te e onorati di accompagnarti da sempre i tuoi angeli custodi ora mentre leggevo io non so se sono andata via ragazze ditemi qualcosa sì ti abbiamo perso ma appena appena mezza frase forse due parole ok il messaggio si è sentito sicuramente bene grazie 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 mille cara ecco non ho visto Denise si sentiva meno male ok Denise se ci sei hai voglia di dirci qualcosa noi accettiamo con piacere niente io a questo punto se siete tutte d'accordo farei una pausa per parlare di Uriel andiamo all'articolo scusami posso interrompere un attimo anche due dimmi intanto che tu leggi le due paroline dell'Arcanzio di Uriel io canalizzo altri due nomi avrei scelto Anna Petrone e Anna Rita Impuso le ho viste richiedere il messaggio poi intanto che tu stavi canalizzando io seguivo stavi leggendo perdonami la canalizzazione io stavo con il cellulare in diretta su facebook e ho visto il commento quindi il feedback di Cristina Piddu io non riesco adesso a passartelo lo leggo direttamente Cristina ci risponde dicendoci grazie grazie di cuore sento che i miei angeli custodi mi sono sempre vicini ed io con il mio lavoro penso di riscaldare il cuore di tante persone faccio l'infermiera cara eccola qua grazie quindi io ringrazio Cristina di questo bellissimo feedback e ti direi che i tuoi angeli custodi sono stati molto chiari nel messaggio che è arrivato per te quindi grazie e Maria grazie io ti ripasso la parola questa sera va così un po' prendo un po' lascio il bello della diretta no? e noi siamo felici di questa cosa anche perché stai facendo un grande lavoro e quindi grazie ti lascio nelle mani dell'arcangelo Uriel che ci dà forza e coraggio esatto esatto allora ragazzi eccoci qua ragazze e ragazzi con l'arcangelo di questa serata l'arcangelo Uriel che governa quello che è il plesso solare quindi il terzo chakra e che ha colore giallo bel giallo oro Uriel ci libera da tutte le paure dalle ansie ci aiuta a liberarci dalle ansie e dai problemi che si si insediano proprio a livello del terzo chakra che è quello del nostro potere personale è l'arcangelo del coraggio e ci aiuta ad essere decisi nel compiere le nostre azioni nel fare le nostre scelte con decisione e nel voler fare e agire in generale possiamo invocarlo quando abbiamo bisogno appunto di coraggio oppure per affrontare qualsiasi situazione soprattutto quelle problematiche quando vogliamo che la nostra mente sia illuminata con idee fantastiche informazioni o anche solo per sapienza possiamo rivolgerci a lui possiamo chiamarlo anche quando siamo preoccupati per noi stessi oppure per chi ci è caro quando ci sentiamo sotto stress quando siamo ansiosi o anche se soffriamo di insonnia Uriel nella tradizione popolare è l'arcangelo che si può invocare anche durante i disastri naturali come terremoti piogge torrenziali eccetera eccetera anche perché nella Bibbia viene ricordato come l'arcangelo che avvisò Noè del diluvio imminente cosa posso ancora dire sull'arcangelo che è l'arcangelo probabilmente più luminoso che si conosca il suo nome vuol dire luce o fiamma di Dio ed è l'arcangelo del perdono anche che ci aiuta a lasciare andare e a diventare coscienti del fatto che Dio ci ama tantissimo e che ogni cosa che ci capita tutto quello che ci succede è per il nostro massimo bene quindi che Uriel ci dia la forza e il coraggio passerei la parola alla nostra Stefania grazie allora io adesso leggo il messaggio che ho canalizzato per Gianna Muccitelli anima cara stella del firmamento venuta a brillare sulla terra e portatrice di messaggi di coraggio e di amore amore un sentimento immenso che ti ha accompagnato fin dai primi passi di questa esperienza terrena che hai sempre donato e del quale ti sei anche sentita derubata amore che ti è mancato come l'acqua che disseta le piante in una torrida estate siamo qui per infonderti coraggio e ridonarti quella luce che da sempre ti appartiene ma che si è spenta dentro di te ti sei sentita succhiata nel buio di una miniera senza un lumicino ad indicarti la via e così ti sei persa sei scesa nel profondo perché la missione della tua anima era quella di scavare a mani nude per portare alla luce diamanti preziosi che brillano di luce propria e che creano meraviglia nell'ammirarli questa sei tu anima cara amata e protetta dalla sfera angelica che ammira in ogni istante il tuo vivere ed è fiera del tuo cammino terreno il nostro messaggio vuole portarti speranza infonderti coraggio in un percorso che ti ha visto inciampare e cadere è arrivato il momento di rialzarti con tutta la forza che ti appartiene riapri gli occhi senza paura ed ascolta i messaggi che l'invisibile e l'impalpabile hanno da darti parla con noi siamo qui ad ascoltare le tue preghiere i tuoi desideri del cuore rimani vigile ad ogni piccolo segnale che ti può arrivare come sai siamo un tutt'uno immersi nella stessa sostanza anche se sembra impossibile riemergi dal buio e ad ogni tuo nuovo respiro porta in superficie la vita che è senza spazio e tempo fai pace con il mondo anche se a volte ti sembra ingiusto per far sì che tu possa ritrovare la gioia regalare un sorriso a chi ti è accanto l'amore è come un balsamo che cura risana che nutre le ferite che lenisce il dolore e lo trasforma siamo al tuo fianco per guidarti e proteggerti nella tua missione terrena con uno scopo che a volte non comprendi ma che passo dopo passo porta pace al tuo cuore apri il tuo cuore senza indugio ascolta il suo battito e sorridi ad ogni tuo respiro fiera di ciò che ogni giorno doni sulla terra i tuoi angeli custodi eccoci qua non so se prima l'avevo vista Gianna se ha ascoltato il messaggio se le risuona se ha un feedback da darci saremo molto contente aspettiamo un attimo non sento non vedo nulla e quindi leggerei l'ultimo messaggio che ho canalizzato che è per grazia d'intino amata creatura ti vediamo seduta in riva al mare ad ammirare il suo colore e la linea del suo infinito assorta nei tuoi pensieri chiudi gli occhi ed ascolta il dolce rumore delle onde che con dolcezza ti riporta la tua infanzia quando con la spensieratezza della tua tenera età facevi castelli di sabbia e ridevi felice con il nostro sostegno ed il nostro amore ti invitiamo a ritrovare quella leggerezza quell'amore per il tutto che non ha confini non ha spazio la tua anima trabocca di amore di gioia di vivere che ha bisogno di esplodere ancora a prescindere da tutto dal tempo che avanza inesorabile dalle responsabilità della vita quotidiana ritrova quella leggerezza che ti apparteneva lascia andare tutto ciò che più non ti appartiene e fai tesoro del tuo sentire della bellezza e della trasparenza della tua anima sei limpida cristallina non permettere che questo tuo essere venga inquinato da alcunché odora il profumo del mare ed immagina la vita colorata degli esseri che lo abitano nel più profondo e con questo vedere scava nel tuo profondo e come un delfino che nuota felice fai emergere i tuoi doni i tuoi talenti e tutto l'amore che ti appartiene con la stessa vitalità e gioia apri le porte spalanche alle finestre del tuo cuore per far entrare entrare aria nuova fresca pulita e leggera respirala a pieni polmoni percepiscila come nutrimento per dar vita al nuovo sei amata e protetta dolce anima alza lo sguardo al cielo e lasciati investire dalla nostra energica luce ogni volta che ne hai bisogno continua senza freno a chiamarci in tuo aiuto con le nostre ali leggere siamo pronti a sorreggerti ed inalzarti al cielo per mostrarti tutta la bellezza di ciò che lo circonda non dimenticare mai che fai parte delle meraviglie dell'universo con la tua unicità e la tua naturale spontaneità che hai bisogno di ricordare di nuovo grazia non è solo il tuo nome grazia è l'espressione del tuo essere fai vivere ogni giorno la bimba vivace che è dentro di te e che aspetta ancora di essere presa per mano per danzare leggera ed intonare un inno alla tua preziosa vita dona il tuo amore senza timore di non essere ricambiata ogni buon gesto ha un grande valore di cui andare fiera con amore immenso i tuoi angeli custodi ecco qua non so se grazia era in diretta se c'è un non mi pare di averla vista devo dire che non l'ho vista neanch'io però mi piace perché c'è chi scrive che sente per se stessa il messaggio che hai letto ad esempio è piaciuto molto il messaggio per Gianna grazie è stato molto emozionante anche leggerlo proprio sì vero è stato molto molto bello mi è arrivato un pieno un pieno di di sofferenza e di bisogno di riemergere è proprio l'invito degli angeli mi sentivo quando ho canalizzato mi sentivo in apnea mi sentivo al buio in apnea e gli angeli proprio suggeriscono la invitano a riemergere da questo buio da queste difficoltà ed ecco Gianna infatti ecco Gianna ci sono mi risuona tutto mi hai fatto emozionare hai descritto la mia vita in pochi minuti sto rinascendo pian piano grazie a mia figlia Doriana che è nell'oltre da quasi due anni che mi ha fatto sentire i messaggi invisibili ringrazio lei i miei angeli custodi e Stefania che mi hai canalizzato no grazie a te un abbraccio forte per questa per questa cosa forte ma veramente forte e ascolta perché l'oltre è accanto a noi e ci fa sentire la sua presenza ogni giorno quindi soffermati ad ascoltare ti abbraccio tanto di nuovo di cuore grazie davvero e c'è anche Maria Grazia Maria Grazia Dintino dico bene sì che dice tutto vero eccolo qua eccolo tutto vero con profondo amore rispetto grazie i miei angeli grazie a te Maria Grazia grazie scusa senza Maria anche questo è stato proprio l'ho vista proprio in riva al mare mi è arrivato questo sguardo verso l'infinito questo questo bisogno di di tornare bambina e di ritrovare quella gioia che le appartiene quindi chiama i tuoi angeli sono accanto a te sempre e fatti aiutare da loro in questa rinascita ecco grazie grazie a te grazia ecco io passo di nuovo la parola a Federica Federica ti interrompo prima che prendi la parola va bene questa sera va così quindi è bellissimo mi sembri gli aggiornamenti sulle sulle partite di calcio quando arrivano fantastico perché così riesco a scegliere qualche altro nominativo e insomma vedo che sono in tante che scrivono per avere un messaggio quindi cerco di infilarmi tra una di voi tra ognuna di voi per per riuscire a leggerli allora io ho canalizzato per Anna Petrone che ho visto in diretta fino a poco fa poi poi ci darà ci darà il tuo feedback allora il messaggio per Anna è questo anima cara sorella cara l'intero universo fatto di stelle è come te brilla come te e illumina come te tu brilli come una stella una grande stella del firmamento una stella piena di luce e amore l'amore quello che illumina e riscalda i cuori quell'amore che nutre quell'amore che cresce dentro ad ogni cuore sì perché dentro al cuore c'è la vita l'amore perché l'amore è vita aprite i vostri cuori all'amore e nutritevi di questo grande sentimento per tanti sconosciuto aprite il cuore all'amore e lasciatevi inondare di amore non immaginate di quali grandi miracoli può l'amore questo messaggio per Anna mi è arrivato da parte degli angeli custodi ma credo a questo punto che la rileggendo ecco la canalizzazione appena fatta credo che l'ultima parte del messaggio sia un po' per tutti aprite i vostri cuori all'amore e non immaginate di quali miracoli grandi miracoli può l'amore credo veramente che che con questo messaggio gli angeli abbiano voluto abbracciare più persone possibili con questo messaggio stasera quindi credo sinceramente non fosse solamente per Anna ecco bello grazie grazie a te Anna grazie infinite allora visto che sono che sono qui e ho la parola in questo momento io avrei scelto per la prossima canalizzazione Mari Fiorini se è presente alla diretta chiedo cortesemente di descrivere ci sono qualcosa e io insomma provvedo a a canalizzare un messaggio per lei io ho rubato parola a Federica quindi gliela ripasso e ci vediamo ci risentiamo tra un po' va bene allora io ho un messaggio perché ti ho innamorato non so se c'è mi pare allora animo dolce pieno di speranza siamo qui per accogliere le tue paure e riportarti serenità e pace dentro quel cuore enorme ti abbracciamo e ti innalziamo al cielo verso noi perché tu qui devi imparare a stare nella gioia e gratitudine la paura che hai troverà guarigione perché non c'è più motivo di avere preoccupazione i tuoi sorrisi sono come luce che inonda la mattina un bosco con le loro allegria e cristallinità la gioia è la frequenza più alta che permette di cambiare lo strato delle cose delle situazioni di strutturare l'ordine fisso della materia i concetti gli schemi gli umori la gioia di cuore intendiamo la gioia in virtù della grazia ma tu sei bene di cosa parliamo permettiti questo viaggio e ascolta le tue guide qualcuna proviene dall'India prega per te stessa prega noi per aiutarti a sostenere la vibrazione giusta medita e ascoltati perché i canali sono aperti e noi ti prometteggiamo con amore Aniel un cangero io non so se cercati non la vedo però altro nome e andrea avanti e avevo letto anche un messaggio per Sabrina chiedeva Antonella Sabrina se potevi mettere i tuoi disegni non so se ne messi con uno screenshot in chat che sono belli hai l'audio spento Sabri non ti sentiamo avete ragione scusate allora non riesco a caricare subito i disegni bisogna aspettare la fine della diretta dopo li caricherò nella chat quindi chi si ricorderà potrà salvarsi il disegno e domani magari riascoltare il messaggio allora l'altro messaggio per domenica Ada Baccaro cara Dolce e Ada sono l'arcangelo Michele che ti manda a dire che è il momento di staccare la spina e riposarti di rilassarti so che hai molte preoccupazioni ma proprio per questo queste preoccupazioni alimenteranno solo la gravità della situazione e non troveranno la soluzione la mia voce a volte è precisa e decisa ma questo è il mio modo di dirti di ascoltarmi la vita le situazioni sono sempre in movimento sono sempre in cambiamento questa è la verità per questo è bene lasciare andare e spostare l'attenzione su altro perché così potrà intanto fare altro concentrati in ciò che ti piace fare cose come cucinare fare lavoretti a mano sappiamo quanto sei brava rimanda la tua energia in qualcosa di positivo e chiedi a noi di sistemare il resto gli affari di terra e proprietà si risolveranno ma devi ancora pazientare un po' per questo pensa a star bene e a goderti la famiglia di affetti e il nostro amore ti avvolgiamo con tanto affetto l'accangelo Michele io non mi sembra nemmeno che ci sia in linea però c'è Ketty che ti dice bellissimo grazie mille grazie Ketty a te della fiducia ok e a questo punto passerai la linea Sabrina va bene grazie Federica allora io avevo già visto prima che Maria Paola Vagelli spero di essere era in linea chiedeva se era entrata troppo tardi l'ho rassicurata che non avevo ancora letto il suo messaggio allora questo è il disegno che ho fatto che l'arcangelo Gabriele mi ha mostrato in pratica è di una donna che guarda da un'altura sotto c'è un po' di nero perché c'è un po' di confusione ma è semplicemente perché lei guarda dall'alto la situazione e riesce ben a capire di cosa si tratta per cui questo Maria Paola è il messaggio per te cara cara Maria Paola piccola principessa che scruti da un'altura all'orizzonte adesso ti appare burrascoso incomprensibile ti senti stanca nello sforzarti di trovare il bandolo della matassa per iniziare a riavvolgere il gomitolo della tua esistenza il groviglio che senti e che credi di vedere è soltanto della lana che si è un po' infeltrita negli anni è stata esposta a troppi sbalzi di temperatura riposta in cassetti nei ripostigli inumiditi dove il sole non è arrivato ad asciugare sospiri e lacrime si sa per mantenerla morbida la si deve accarezzare con un profumato balsamo emolliente fatto di abbracci e sorresi sappiamo piccola principessa che le sorelle invidiose come con Cenerentola ti hanno sempre nascosta e quanto è stato difficile rimanere ragomitolata in un angolo buio in fondo al tuo cuore la situazione era chiara e limpida cara sorella è ora che tu tolga il fazzoletto che porti sul capo lascia che i capelli siano liberi di scendere sulla fronte non sarà più sudata a causa della fatica essi incorniceranno il tuo viso e i tuoi occhi che hanno comunque mantenuto la scintilla la luce del tuo cuore di guerriera eravamo con te in ogni istante anche quando ti pareva che quell'altura diventasse un dirupo dal quale rovinare per lo sgretolarsi del terreno ora siamo qui a dirti che ci puoi chiamare sempre saremo il bastone che è piantato a terra ti aiuterà a rimanere salda in equilibrio scruta dunque l'orizzonte ritrova la tua luminosa armatura e come un'imperatrice che osserva la vittoria delle sue truppe in guerra potrai osservare la battaglia dall'alto essa non si svolge per il predominio o la conquista è finalizzata a quietare ogni falsa aspettativa ogni gioco di potere ogni parola pronunciata con invidia e risentimento sarai dunque portatrice di ordine e pace prima nel tuo cuore e poi a chi ti sta accanto il bandolo è giusto ad un passo da te chiamaci e ti prenderemo per mano mostrandoti la via più breve per compiere quel passo che ti farà uscire da dove sei e portarti dove sei destinata a risplendere ti amiamo arcangelo arcangelo asrael e gli angeli della trasparenza quindi questo mostro di nuovo il disegno di questa donna che è ben piantata a terra con un bastone quindi è salda nel suo essere nelle sue posizioni non so se ha sentito il messaggio se c'è al momento no ho letto un grazie Sabrina era no aspetta no forse era di Monica quello di grazie prima no non vedo no al momento no va bene non importa allora proseguo ecco no sì Maria Paola dice grazie bellissimo sono io eccola qua bene sei una sono io benissimo quindi libera i capelli dal con il fazzoletto della fatica e indossa l'armatura perché sei un'imperatrice guerriera portatrice di pace e amore quindi mi fa piacere che questo messaggio ti sia risuonato grazie 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 ok allora leggo il quarto messaggio che è per Filomena Scalise io l'avevo vista all'inizio della trasmissione forse si è collegata allora questo è un disegno un po' più articolato in pratica c'è una torre all'interno della quale c'è Filomena c'è il fossato non si nota molto bene ma poi posterò i disegni sotto c'è un labirinto al di là del labirinto c'è una bellissima strada lastricata d'oro piena di luce quindi questo qua ah sì e poi anche se non si vede perché ho ricopiato la scritta c'è un angelo c'è un angioletto sopra che guarda che guarda tutto quindi è per ribadire la presenza dei nostri angeli nella nostra vita allora Filomena Scalise cara sorella Filomena ti osserviamo dall'alto e ascoltiamo l'attesa del tuo cuore celata dai suoi battiti lenti e ritmati a volte la sua esitazione si nasconde dietro a un soffio ad un sospiro perché ti senti chiusa in una torre che non ha porte la tua stanza ha solo una finestra coperta da una pesante tenda a volte l'ascosti timorosa di affacciarti e osservi dall'alto il paesaggio sogni di poggiare i tuoi piedi su un tenero prato di ascoltare da vicino il cinguettio degli uccelli e di farti accarezzare dal vento non ti manca nulla lì dentro ti senti al riparo e non hai perso la voglia di avventura quella che ti fa alzare al mattino con il vigore e l'entusiasmo di uscire a vivere a pieno come un oggetto smarrito giace in fondo ad un forziere dimenticato esso racchiude molte cose e assieme alla magica chiave che apre ogni porta c'è anche la mappa che ti mostra la strada per attraversare il labirinto che osservi e che ti fa rovellare la notte perché anche dall'alto non ti mostra la giusta strada per superarlo ricorda che è tutto nel tuo tempio consacrato del tuo cuore è un po' impolverato ma il forziere è sempre aperto basta saperlo cercare cara Filomena siamo qui oggi per esortarti per ricordarti che non sei sola non esiste soltanto quella stanza nella torre ben sappiamo che voi esseri umani vi abituate a guardare ostinatamente nella stessa direzione convinti che sia quella giusta ascoltate la mente non il cuore Filomena ascolta la nostra voce e nello sbatterdali degli uccelli nella risacca del mare nel sospiro dei venti fermati ritrova i passi al ritmo del tuo cuore e ti porteranno subito al forziere aprilo rimarrai abbagliata dai tesori del tuo tempio ne hai davvero molti li hai raccolti in ogni tuo passaggio su questa terra ora li puoi toccare riconoscere e in mezzo a loro trovare la chiave per uscire dalla torre e la mappa che come il filo di Arianna ti farà superare il labirinto e ritrovare la tua strada la stricata di luce la ci saremo noi che ti avremo preceduta non senza prima aver protetto ogni tuo passo ascoltato ogni tuo battito e asciugato ogni lacrima versata risplendi dunque Filomena rotola sui prati canta con il vento ridi sotto la pioggia e non sentirai il boato che ha fatto crollare la torre le sue fondamenta hanno cominciato a indebolirsi quando hai deciso che il tuo sguardo doveva andare verso un'altra direzione controcorrente forse ma che importa ormai guardati intorno guardati dentro e ammira ciò che sei diventata la torre ormai è crollata oltre le sue macerie si è aperto un varco attraverso il quale puoi finalmente godere da vicino di un nuovo e luminoso panorama i tuoi angeli custodi ecco questo mostro di nuovo la torre dietro ci sono degli occhi che sono gli occhi di Filomena che guardano il labirinto e poi l'angelo sopra c'era Filomena? sì c'era perché si è palesata vediamo se scrive ecco qua e così tutto come hai canalizzato grazie perché ho proprio visto questa torre dalla quale ti sei affacciata hai quasi paura e dalla quale non vuoi uscire ma in fondo è una cosa che capita a molti di noi la mente ci chiude per comodità dentro ad una torre e non riusciamo a guardare al di là dobbiamo guardarci dentro ritrovare il forziere che è nascosto ma in realtà non c'è solo una stanza in quella torre ne abbiamo tante e che col tempo quando abbiamo invitato degli amici negli anni abbiamo mostrato la nostra casa ma no ma questa non è questa stanza non mi piace l'hai chiusa sono passata in un'altra stanza questa stanza non mi piace l'hai chiusa finché non ti sei ritrovata in una soltanto ma adesso ti sta stretta è ora che tu ricominci a guardarti attorno a riaprire tutte le altre stanze che ti rendevano felici ti rendevano quella che sei quindi coraggio Filomena che gli angeli sono con noi e vogliono solo che noi troviamo la felicità quindi grazie 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 ti ringrazio anche per il disegno dice che è bellissimo in effetti grazie grazie lo mostro di nuovo brava grazie e niente allora ringrazio ringrazio tutti del feedback e passo la parola a Maria Grazia certo che nel frattempo mi ero distratta perché purtroppo Francesca ha problemi di connessione a temporale dove lei ma mi ha inviato un messaggio da leggere per Mari Fiorini dici Sabrina no non ho niente ah ok scusa dicevo che Francesca mi ha mi ha inviato un messaggio per Mari Fiorini che ha analizzato poco fa in diretta e dice anima di luce piena di gioia e amore grande è la tua anima grande è il tuo amore per noi esseri di luce pardon eh esseri di luce pura noi siamo qui con te sulla terra in ogni momento della tua giornata dall'alba dall'alba al tramonto dal sole alla luna nelle notti più tormentate noi siamo lì accanto a te pronti a vegliare i tuoi sogni siamo con te per stringerti no scusate per stringerti per coccolarti siamo con te per amarti amali così come noi amiamo te sorella cara scusate ma non è facile perché è una foto anima cara noi non ci dimentichiamo mai di te ma neanche tu devi e neanche tu devi farlo aspettate ok scusate nel frattempo Francesca mi messaggia allora anima cara noi non ci dimentichiamo mai di te ma neanche tu devi farlo chiamaci facci sentire la tua voce e noi accorreremo in tuo aiuto a noi piace il suono della tua voce perché non ce la fai sentire chiamaci e noi arriveremo a te fiduciosi che tu ci possa sentire spalancaci il cuore spalancaci il cuore e noi entreremo con tanto amore lo riscalderemo non dubitare anima cara i tuoi angeli custodi che tanto ti amano allora questo era un messaggio per mari mari fiorini ti chiedo scusa mari se ho fatto fatica a leggerlo ma è una è una foto su whatsapp un po' scura spero non so se avete visto ragazze se c'è mari si è sentito mari fiorini intanto francesca eccola qua vediamo se ce la fa eccola franci ho appena letto il messaggio ok vai cara ecco ok mari dice e questo è per te francesca perché lo hai canalizzato tu che risuona totalmente e ha capito il tuo messaggio scusatemi ma c'è un temporale e mi c'era spento il computer quindi ho passato velocemente il messaggio a Maria grazia sperando che riuscisse a capire la mia calligrafia bene si è andata bene grazie grazie francesca grazie a voi hai ancora qualche messaggio francesca no abbiamo sei minuti allora vado io col mio ultimo messaggio che è per rosy rosy ti avevo vista prima quindi spero che tu ci sia ancora cara questo è il messaggio per te cara cara dolcissima anima che ancora teme di non essere all'altezza quanta luce invece emana dal tuo cuore delicato anima antica che indossi le vesti terrene per ricordarti chi sei ascolta il tuo spirito che ti chiama e ti riporta la tua essenza è proprio è proprio vero che vi spaventa molto di più la luce che potreste essere dalle ombre del vostro cuore che dovete superare ebbene adorata nostra oggi vogliamo ricordarti chi sei e quanto vali e vorremmo dirti che è ora che tu possa ritrovare la tua vera essenza e mostrarla al mondo sei nata per essere luce pura sei nata per brillare non per seguire in sordina è ora che tu riprenda il tuo posto sicura e consapevole di essere al servizio della luce anche tu amata nostra sei accompagnata da noi in ogni istante sei protetta sei sostenuta e non hai nulla da temere apri il tuo cuore a noi con fiducia siamo qui chiarisci a te stessa in primis chi sei e chi vuoi essere poi va sicura per la tua strada i giudizi delle persone possono fare male ma se nel cuore sentite l'amore quello con la maiuscola non saranno che piccoli fastidi passeggeri esisti per te stessa e per coloro che ti amano l'amore incondizionato porterà solo luce e altro amore e finalmente ritroverai la tua interezza e la piena vita che ti si addice vuoi accontentarti di essere a metà osa noi ti appoggiamo osa e scoprirai chi sei veramente noi siamo qui per te e non ti lasceremo mai abbi fiducia in te e in chi ti ama prova a cacciare i pensieri negativi prova a sostituire il tuo vocabolario con parole positive in breve i tuoi pensieri e parole si trasformeranno in realtà chiedici di cancellare gli effetti negativi di ciò che hai pensato e detto in passato e saremo felici di effettuare queste pulizie di primavera per te se ancora hai dubbi cerca nel tuo cuore le risposte che cerchi sono già tutte lì tieni il tuo cuore sempre aperto a dare e a ricevere amore prenditi cura di te e dei tuoi interessi e seguili sei anima grande e luminosa splendi e ora dolce rosi sei per noi tanto importante ed è ora che tu esca a rimirare le stelle e il tuo destino sii semplicemente e meravigliosamente te stessa una grande anima siamo con te e in te angeli custode custodi e arcangelo Uriel accanto a te cara rosi io spero che tu ci sia perché io davvero ho visto questo cielo stellato che è lì che ti aspetta e hai tutto a portata di mano perché tu sei quella cosa lì quindi apriti sì infatti trova la fiducia e e affidati perché sei tanto tanto grande non devi dubitare la luce la luce è in te ed è per te quindi brilla come ti dicono loro e Uriel ti è accanto quale arcangelo migliore dell'arcangelo luminoso eh ragazze questo era il mio ultimo messaggio e siamo in zona cesarini perché manca esattamente un minuto quindi come sempre io resto affascinata da tutte queste parole di luce bellissime e ringrazio voi gli angeli e tutti coloro che ci hanno seguito anche noi ringraziamo tutti ringraziamo io ringrazio voi colleghe angeliche e tutti coloro che sono stati in ascolto in questo questa ora e mezza insieme insomma speriamo che queste parole questi messaggi arrivino veramente al cuore di tutti e ringrazio tutti grazie grazie a tutti grazie 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 e chi non ha ricevuto messaggio sarà per la prossima volta si prenota per la prossima volta la prossima volta c'era la nostra Antonella che ricordava dovrebbe essere il 21 aprile vi aspettiamo a braccia aperte buona serata con la nostra capitola grazie ciao 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 ciao